Affrontiamo anche un discorso sulle diteggiature, cioè noi abbiamo fatto un accordo, adesso possiamo assicurare, che più a volte lo possiamo suonare anche con un dito solo, con le dita singole, chiaramente come tutti gli strumenti, almeno con gli armoni come loci. Quindi, iniziamo dalla mano destra e, allora qui ci sono varie scuole, comunque, diciamo come primo approccio proprio, possiamo fare un Do, Re, Mi, Fa e Sol, quindi cominciamo a posizionare le cinque dita della mano destra sui cinque rispettivi tasti bianchi, partendo dal Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, è importante mantenere le dita a martelletto, Fa, Sol, con la sinistra scusate, avremo 5, 4, 3, 2, 1. Se avete difficoltà potete anche partire dal Sol, quindi dal dito, dall'1 invece che dal 5, quindi fate... eccolo qui, oppure dal 5... eccolo qui, oppure dal 5... alternate sempre le mani... alternate sempre le mani... rimanete sempre in posizione... adesso ve la tolgo ma voi rimanete sempre in posizione... adesso vi faccio vedere... e sollevate sempre ogni dito per il momento... e sollevate sempre ogni dito per il momento... ogni dito che ha suonato e quando suonerà l'altro lo alzate... vedete... non lasciate niente sotto... non lasciate niente sotto... se volete potete iniziare a fare gli esercizi... con tutte e due le mani insieme... partendo dall'1 però... vedete... quindi l'1 sul Do... poi mettete il 5 sul Do per darvi la misura... e poi mettete... 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 le 5 dita della mano sinistra... e andrete col... con l'1 sul quinto tasto... cioè sul Do, Re, Mi, Fa, Sol... e fate così... suonato... 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 e grazie